La Primo Sole è concessionaria specializzata e autorizzata sui veicoli Piaggio Commercial. Grazie a Guglielmo scopriremo caratteristiche, dettagli e allestimenti del nuovo Piaggio Porter NP6. La caratteristica principale del nuovo Piaggio Porter NP6 è la versatilità, grazie alle dimensioni contenute, la robustezza del telaio e la molteplicità degli allestimenti oltre a quelli di serie. Dal classico cassone fisso o ribaltabile posteriore, a veicoli destinati alla raccolta RSU, veicoli frigo, scarrabili, piattaforme aeree, 4x4, van e molte altre applicazioni. Insomma, Piaggio Porter NP6 è una valida alternativa sia per le piccole imprese che come veicolo jolly per le grandi flotte. E ha due possibili alimentazioni, entrambe green, benzina GPL e benzina metano. Il passo e la portata sono altamente personalizzabili al fine di offrire una soluzione su misura per ogni esigenza. I clienti Piaggio Commercial della concessionaria Primo Sole possono contare sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi grazie ai meccanici specializzati dell'officina, oltre a poter acquistare ed ordinare i pezzi di ricambio anche online. Ti piace il Porter NP6 di Piaggio Commercial? Affidati ai professionisti della concessionaria Primo Sole!